opel combo una vera inversione di tendenza nato in passato come veicolo commerciale ora si presenta sul mercato come veicolo dedicato alla famiglia una famiglia un po radical chic che alla ricerca di spazio comfort e tanta modularità a bordo ci sono cinque comodi posti che diventano sette con i sedili modulari interessantissimi i vani porta oggetti c'è spazio per mettere ogni cosa interessante lo spazio anche dietro con i sedili isofix per i bambini ci stanno comodamente tre seggiolini uno a fianco all'altro una vettura rivoluzionaria che ti permette di vivere la quotidianità in modo diverso spazio per gli sportivi spazio per chi ha bisogno di portarsi in giro tante cose per quelle famiglie che sono davvero esigenti ciò che mi ha colpito come dicevo i vani porto oggetti ce ne sono tanti guardate qua nel tunnel centrale ci sta questo è grande circa come una bottiglia d'acqua un litro e mezzo lo buttiamo giù voilà ci sta tutto e quindi avete vicino a voi anche le vostre bevande o il materiale di prima necessità interessante anche la tecnologia a bordo di combo perché è una vettura che adotta l'intelligent grip ovvero una trazione controllata che ti permette di guidare in cinque modalità diverse quella normale sabbia fuoristradista sp off in condizioni neve e insomma ce n'è proprio per tutti i gusti quindi spazio piacere di guida tanta robustezza un design accattivante perché comunque con le sue linee possenti di da un grande senso di sicurezza e ovviamente non manca anche la tecnologia a bordo perché i sistemi di infotainment e navigazione ti permettono di essere sempre connesso con il mondo questa preview di opel combo non è niente male la seduta è davvero confort sono curiosa di provarlo per vedere poi come si comporta realmente su strada ma intanto interessante un'altra kick è questo volante che è riscaldato grazie